Via libera al bilancio di previsione 2024-2026 e alla legge di stabilità. Sì alla città della salute di Novara con il costo aggiornato. Movimenti migratori ed educazione di pace, approvate due delibere. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati via libera da parte dell'Assemblea che in settimana ha svolto tre sedute nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì al bilancio di previsione e alla legge di stabilità. Approvato il bilancio di previsione 2024-2026 della Regione, l'ultimo della legislatura, con 20,7 miliardi di euro in termini di competenza, di cui 12,5 sono destinati alla sanità. Tra le voci principali, 25 milioni saranno utilizzati per l'abbattimento delle liste d'attesa, 55 per l'istruzione e l'edilizia scolastica. Aumentano i fondi per la cultura, che si assestano a poco meno di 45 milioni e aumenta di 2,5 milioni il fondo sociale per il sostegno alla locazione degli alloggi di edilizia popolare. Aumentano anche le risorse per le borse di studio, con un'ulteriore integrazione di 8,3 milioni. Alla protezione civile andranno 10 milioni, 20 milioni sono destinati allo sport. Diminuiamo il debito e in più l'abbiamo fatto senza aumentare le tasse, che è un altro aspetto molto positivo e soprattutto l'abbiamo in certi casi anche diminuiti, il bollo auto è un esempio, oppure anche l'IRAP a quota regionale, a favore delle imprese che investono in Piemonte o aumentano la loro produzione. Relatrice di maggioranza Alessandra Biletta, Forza Italia, relatore di opposizione Raffaele Gallo, Partito Democratico. Ci sono degli impegni importanti, soprattutto per l'abbattimento delle liste d'attesa, per il fondo sociale, quindi a favore dell'edilizia popolare, istruzione, borse di studio. Quindi ancora una volta siamo andati incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Un bilancio fatto di annunci, fatto di contributi a pioggia, di nessuna operazione strutturale, soprattutto nessuna operazione di sostegno alle famiglie e alla povertà, in particolare educativa. Prima del voto finale sono stati approvati 11 ordini del giorno presentati da Letizia Nicotra e Federico Perugini, Lega, Monica Canalis, Domenico Rossi e Diego Sarno, Partito Democratico, Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle e Silvana Cossato, Liberi Uguali Verdi. Via libera, maggioranza anche alla legge di stabilità 2024. Come ha spiegato il relatore Matteo Gagliasso, Lega, il testo contiene norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio della programmazione. La legge prevede che la Giunta, in materia tributaria, abbia l'obiettivo di valutare la semplificazione per il cittadino contribuente. Introduce l'erogazione di contributi per il diritto allo studio in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Tra le altre norme previste nel provvedimento, la modifica della legge sulla raccolta e coltivazione dei tartufi ha aumentato anche il finanziamento regionale per le Universia di Invernali del 2025, che passa da 5 a 5,5 milioni. Approvati inoltre due emendamenti, affirma Raffaele Gallo, Partito Democratico, sul potenziamento dei centri diurni che offrono servizi rivolti a persone con disabilità grave e complessa in età adolescenziale. Con questa legge di stabilità noi abbiamo un bilancio che è in regola, un bilancio che è positivo. Siamo cresciuti di credibilità, di affidabilità. Complessivamente il nostro voto è stato un voto contrario, anche se alcune norme le abbiamo votate perché ritenevamo che queste norme fossero norme corrette. Sia la città della salute di Novara con i prezzi aggiornati. Il costo per la realizzazione dell'opera passa da 419 a 530 milioni di euro. Approvata a maggioranza 26 favorevoli, 4 contrari e 11 non partecipanti al voto, la proposta di deliberazione che aggiorna il costo per la costruzione della città della salute e della scienza di Novara da 419 a 530 milioni. Il provvedimento presentato dall'assessore alla sanità Luigi Cardi modifica i parametri economico-finanziari della precedente deliberazione. 111 milioni in più che portano il costo dell'ospedale a oltre 500 milioni che più o meno però è allineato al costo degli altri grandi ospedali come Cuneo e Alessandria. Un primo aumento è stato fatto con fondi pubblici, un secondo con fondi privati, ma ci auguriamo che con questa revisione del piano finanziario finalmente qualcuno aderisca alla gara e speriamo di vedere presto il cantiere aperto. Parliamo peraltro di un ospedale che sarà universitario e quindi vocato alla ricerca in prossimità della Lombardia e quindi volto anche a contenere quella mobilità passiva che rappresenta un costo molto importante per Regione Piemonte. Eravamo pronti cinque anni fa per realizzarlo con una base di gara di 320 milioni di euro, oggi abbiamo approvato l'ennesimo aumento, credo sia il terzo o il quarto in cinque anni. Noi rimaniamo a favore dell'opera, tant'è che non abbiamo fatto nessuna opera di opposizione, però non siamo convinti che da un puntista finanziario le scelte di questa giunta siano state quelle corrette. Approvate le delibere su movimenti migratori ed educazione di pace. Approvati a maggioranza dal Consiglio il programma annuale di interventi regionali in materia di movimenti migratori e le linee programmatiche 2024-2026 su educazione di pace, cooperazione e solidarietà internazionale. Le delibere, illustrate in aula dall'assessore Maurizio Marrone, prevedono da una parte il sostegno a iniziative e attività culturali a favore degli emigrati e per gli studi sul fenomeno migratorio, 250 mila euro le risorse stanziate. Dall'altra la continuità dei programmi in tema di educazione alla cittadinanza globale e dei bandi rivolti agli enti locali per progetti di cooperazione decentrata nei paesi dell'Africa subsahariana, Medio Oriente, Bacino del Mediterraneo e Balcani Occidentali. In risposta a Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre Unione Popolare, che ha chiesto un aggiornamento sugli ordini del giorno votati all'unanimità dal Consiglio per l'accoglienza dei bambini palestinesi bisognosi di cure mediche, Marrone ha annunciato che in accordo con il Comune di Torino sarà comunicata al Ministero degli Esteri la disponibilità ad ospitarne una quota in Piemonte in caso di prossimi arrivi in Italia. Come intende intervenire la Regione per garantire la salute e la sicurezza degli abitanti della Valle di Susa a fronte del mancato rispetto delle prescrizioni relative al traffico dei camion dal cantiere di San Didero? Questa è l'interrogazione che la consigliera Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre Unione Popolare, ha rivolto all'assessore ai trasporti Marco Gabusi nell'ambito dei question time. La Regione istituirà un tavolo con i comuni interessati dai cantieri Telt, ha annunciato Gabusi, in modo da coordinare interventi per risolvere eventuali criticità causate dal traffico dei mezzi pesanti sulla viabilità locale e sollecitare un maggiore controllo da parte di Telt sulle attività svolte. Festeggiati al Parlamento Subalpino i 600 anni del Drapò. In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale della Costituzione dell'Inno e della Bandiera e nell'ambito delle celebrazioni dei 600 anni del Drapò, il Museo del Risorgimento, in collaborazione con il Consiglio regionale del Piemonte, ha aperto le porte della Camera dei Deputati del Parlamento Subalpino, l'unica aula parlamentare rimasta integra in Europa tra quelle nate con le Costituzioni del 1848. accolta a partire da quell'anno nel Salone d'Onore del Palazzo dei Principi di Carignano e riconosciuta monumento nazionale dal 1898. Il percorso di visita al quale ha partecipato il Presidente del Consiglio Stefano Allasi è stato accompagnato da musiche e parole che hanno raccontato la storia del Drapò piemontese e del tricolore. Nei altri giorni di riapertura del Museo e della Sala del Parlamento Subalpino si è potuto vedere le bellezze e la storia del nostro territorio, del nostro Piemonte e dove veramente si è fatto il risorgimento italiano e si è fatta l'Italia. Un evento eccezionale che ha permesso di vivere l'emozione unica di entrare nel luogo che ha visto nascere l'Unità d'Italia. E' in quest'aula parlamentare che personaggi come Camillo Cavur, Giuseppe Garibaldi, Alessandro Antonelli, Cesare Balbo, Massimo D'Azzeglio, Vincenzo Gioberti, Quintino Sella e centinaia di altri posero le basi per la nostra democrazia e avviarono il processo di unificazione del Paese. Grazie al sostegno del Consiglio abbiamo potuto organizzare per tre giorni delle aperture straordinarie, quindi il pubblico ha avuto l'occasione di visitare il Parlamento Subalpino, di poter entrare dentro ed è un'occasione che capita rarissimamente, c'è solo questi giorni durante l'anno. Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie! Grazie!